cari amici buongiorno oggi vorrei parlarvi di scelte scelte ne facciamo tante e dobbiamo farne tante tutti i giorni molte scelte sono importanti altre scelte sono banali ma determinano la qualità della nostra vita avete mai valutato le vostre scelte quanti ripensamenti quanti rimpianti quanti guai può produrre una scelta sbagliata le scelte sono ancora più gravose quando riguardano altre persone siamo chiamati a fare scelte per esempio per i nostri figli per la loro educazione che tipo di scuola fare quale sport faranno quanto altro poi mettetecelo voi ma torniamo a noi noi che tipo di scelta e che tipo di vita vogliamo vivere che obiettivi raggiungere ci sono poi delle scelte che non possiamo fare non possiamo fare noi perché vanno oltre la nostra possibilità ma che in ogni caso ci mettono davanti ad alcune realtà sgradevoli una malattia un incidente la morte di un vostro caro un evento che in qualche modo devia il corso della nostra vita anche in questi casi abbiamo la possibilità di scegliere o essere schiacciati dagli eventi oppure reagire positivamente trovando il lato buono di ogni cosa c'è una scelta importante che possiamo fare per noi per la nostra vita ed è quella di aprire il nostro cuore a dio permettendogli di rinnovare tutto di noi dirvi che la scelta vincente mi viene facile perché anch'io ho scelto più di 50 anni fa questa strada e non me ne sono mai pentita anzi è stata una scelta che mi ha aperto una strada verso il perdono dei miei peccati e anche a una vita piena esuberante con una prospettiva e anche Dio fa delle scelte le ha fatte per amore per amore delle sue creature che certo non lo meritavano ascoltate cosa scrive l'apostolo Giovanni al capitolo 3 al verso 16 perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna scelse di pagare un prezzo altissimo sacrificare suo figlio sulla croce per riscattare noi dalla potenza del peccato e delle nostre ribellioni alla sua legge oggi forse potresti caro amico ripensare a tutte le tue scelte e vedere dove ti hanno portato quale bilancio ne è scatturito nella tua vita beh qualsiasi sia reso conto sappi che la scelta di accogliere Dio nella tua vita ti porterà a ricevere una totale rigenerazione nel tuo spirito Dio ha progettato un uomo nuovo dove le cose vecchie le cose sbagliate possono diventare nuove la sua grazie invade il cuore di ogni uomo che lo cerca avendo una grande certezza che lui si fa trovare da chiunque chi desidera fare una scelta radicale per una vita dalle dimensioni eterne può deciderlo anche oggi perché lui è il remuneratore di chiunque lo cerca e con questo vi auguro una buona giornata